Velvet Music incontra Mad in occasione degli MTV Awards a Firenze. Come ti senti in questa situazione un po' bagnata, diciamo, perché ha fatto il diluvio universale oggi di pomeriggio? Mi compenso, il tempo non è dei migliori, però ci si diverte, io sono gasatissimo, non vedo l'ora di iniziare questa esperienza. E com'è il tuo rapporto con MTV, visto che sta per partire un progetto? Ma io con MTV mi sono sempre trovato benissimo e quest'anno ci ho lavorato in particolare per un nuovo format, dove sono stato scelto assieme a Tina Baffi per presentare The Hottest Swimsuit, che è un contest che legge il costume più figo dell'estate. E niente, io e Tina diciamo che portiamo le telecamere in giro per Mykonos alla scoperta di quello che è lo street food, la musica, la moda, tutto ciò che riguarda l'isola. Molto figlio. E invece appunto proprio il rapporto con MTV, magari quando eri piccolo e se la guardavi, sognavi magari di essere sul palco degli MTV Awards. Va, ti dirò, ogni volta, vabbè, io sono fissato con MTV Music in particolare, sai, guardare i videoclip è sempre stata una mia passione. È normale, il mio sogno, uno dei miei tanti sogni era quello di apparire su MTV da piccolo, mi ricordo benissimo. E niente, adesso che ci sono, sono persone più felice del punto. Vuoi parlare del tuo singolo estivo? Sì. Allora, il mio nuovo singolo si chiama Power Life. È diciamo un inno al divertimento e alla spensieratezza. Ho voluto creare un brano molto spontaneo, senza troppe cose ricercate. Mi andava di far divertire e di divertirmi, quindi in Power Life penso che sia la rappresentazione di questo. E niente, abbiamo girato il videoclip che è già online in Sardegna, nella mia terra, perché comunque si sposava molto con il mood del brano. E niente, sono molto felice di come sta andando sul web e spero che vada sempre meglio. Mi raccomando, scaricatelo. Abbiamo letto che sarai al Coca-Cola Live, cosa ti aspetti da questa esperienza? Sì, sarò al Coca-Cola Live. È un'esperienza che ho già fatto l'anno scorso e in cui mi sono divertito tantissimo, quindi già non vedo l'ora di andarci perché so già che sarà un'esperienza bellissima anche quest'anno. E durante l'estate ci saranno concerti, già appuntamenti per incontrare i fan o comunque esibirti dal vivo? Sì, allora io ho già iniziato un summer tour, diciamo, sto girando nelle piazze di tutta Italia, sto promuovendo il singolo e ho già incontrato un sacco di gente e spero di incontrarne tantissimo ancora. Ci saranno date importanti, a parte di Coca-Cola sarò al Mondo Icnusa il 23, insieme a Max Pezzali e Salvo, quindi sono super onorato. E niente, anche lì ci sarà occasione di cantare il singolo e spero di cantarlo con tutta la mia terra davanti a me. Ok, se vuoi fare un saluto a tutti gli amici di Velvet e Meg. Ciao a tutti gli amici di Velvet, vi mando un bacione e niente, Power Life!